Con il sindaco di Adrano Angelo Tagate che vuole rispondere al consigliere comunale Carmelo Pellegriti il quale è andato giù duro nei confronti della sua amministrazione definendola sostanzialmente inesistente. Ma diciamo che un po' i giudizi definitivi assoluti in politica mi dispiacciono sempre, sono sempre inappropriati, in questo caso mi dispiace doppiamente, intanto perché è un giudizio assoluto a mio modo di vedere anche un po' affrettato e poi perché è un giudizio negativo, estremamente negativo, come se fossimo noi i peggiori amministratori della storia di Adrano. Questo non mi sembra corrispondente al vero perché tanto per partire dall'ultimo argomento tirato così in ballo nel consiglio comunale che è quello dei finanziamenti, la mia giunta in pochissimi mesi, neanche sette che sono fino a ora, ma nei primi tre mesi abbiamo approvato progetti per più di 3 milioni di euro e li abbiamo mandati in gara, sono stati pubblicati, sono in gara, aspettiamo l'esito delle gare. Certamente c'è una questione di termini, di cose, non abbiamo nessun decreto di revoca dei finanziamenti e il cammino di queste opere va avanti, quindi non ci siamo fermati neanche per un attimo, quindi se il giudizio estremamente negativo è relativo ai finanziamenti, io penso che è approvare in pochi mesi 3 milioni e 2 rispetto a 20 anni, che se permettete di finanziamenti non se ne sono approvate non più di 800-900 mila euro in 20 anni, non mi pare che questo possa essere un metro di paragone, per poter definire pessima la mia giunta, piuttosto vorrei dire altro, se il giudizio è riferito ad altre questioni, ma queste potremmo approfondirle, mi è dispiaciuto che sia così estremo e così negativo. Sindaco, riguardo ai finanziamenti di cui le accennava Pellegriti, il giorno prima l'ex sindaco Ferrande avevano posto l'accento sul finanziamento di 4 milioni e 200 mila euro, che il comune rischia di perdere, lei conferma che la procedura è stata fatta comunque in ritardo rispetto ai termini? Allora io dico che ci sono dei commi per i quali, voglio dire, c'è un decreto per il quale io mi ero già sentito col direttore centrale direttamente, anche con la richiesta di un parere, ma diciamo che si è fermato a una telefonata. Ho richiamato adesso al Ministero degli Interni, a me non sembra che ci siano gli estremi nel nostro caso, è vero che c'è una questione di termine, neanche troppo chiara, non mi pare che nel nostro caso ci siano gli estremi dell'arrevoca, tenete conto che noi abbiamo avuto un evento sismico per via del quale in corsa alcuni progetti sono stati cambiati. Questo è accaduto, quindi c'è una questione di termini perché è avuto l'evento sismico, è una questione di lavoro dell'ufficio tecnico che ha effettuato 1600 sopralluoghi e poi c'è un lavoro di adeguamento sismico perché proprio la legge, questo decreto del Ministero dell'Interno riguarda la messa in sicurezza delle... Io non credo proprio che ci saranno revoche di finanziamento, ma questo lo vedremo, non voglio essere tassativo, per i contatti che io ho col Ministero non c'è nessun decreto di revoca. Per l'ultimo sindaco, altro argomento di attualità su cui l'opposizione è stata molto critica nei suoi confronti, la condizione del manto stradale ad Adrano, le tante buche che ci sono nelle strade della città. Questo debbo dire che è vero un po' la vetustà delle nostre strade, la condizione del manto non è ottimale. Abbiamo avuto degli eventi meteorologici piuttosto avversi e continui che un po' hanno creato questa cosa, ma già oggi, voglio dire, è da tre giorni che vengono... abbiamo dato un... così, una sistemata alle strade, mi pare che non... io credo che siano state esagerate questi fenomeni, come mi permetto di dire che è stato esagerato il fenomeno dei guasti nelle scuole. Oggi sono stato a Giobbe, è stato anche oggetto di un vostro servizio, voglio dire, la vostra attenzione, la vostra serietà non viene messa in dubbio, ma le scuole di Giobbe non hanno avuto nessun guasto, c'era solo un pulsante da accendere, non è stato fatto, sto cercando di capire bene com'è successo e sono stati invitati i ragazzi ad andare a casa piuttosto che a scuola, questo è un fatto piuttosto grave, è stato uno degli argomenti più terribili che sono stati posti in consiglio comunale ed era un fatto inesistente.